Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. Prima di iniziare il video voglio ricordarvi i super grazie, un modo per sostenere il canale. Vi ringrazio anticipatamente. Iniziamo quindi il video. È estate, fa caldo. Cosa c'è di meglio per dissetarsi se non un bel tè? Qui abbiamo due tè al limone, di quelli in bottiglietta. Il San Benedetto e il tè per antonomasia, l'estatè, che come dicono la pubblicità è estate, the best. Vediamo se è veramente the best. Partiamo subito con i prezzi. Dunque, il tè San Benedetto è mezzo litro, l'ho pagato 67 centesimi. L'estatè non è mezzo litro, sono 400 millilitri, l'ho pagato 90 centesimi. Quindi, considerando il prezzo al litro, un litro di tè San Benedetto viene 1,34 euro. Un litro di estate viene 2,25 euro. Abbiamo quindi una differenza del 50% se non di più tra il prezzo dei due prodotti. Sarà giustificata? Sempre secondo il mio parere, vado a assaggiare. Inizio col tè San Benedetto. Estatè. Dunque. Visivamente, sembrano quasi simili. Forse è un po' più scuro l'estatè. Adesso sento olfattivamente. L'estatè ha il sapore inconfondibile proprio di estate. Un sapore che ha solo l'estatè, l'odore. San Benedetto ha un odore diverso. Ha un odore diverso. Questo ha un odore prettamente di tè al limone. Mentre questo ha odore di tè al limone, ma ha quell'odore particolare proprio dell'estatè. Vediamo se... Inizio con il tè San Benedetto. Non è male. È un tè al limone. Bevanda al gusto di limone. Estatè. Estatè. È una ricetta particolare per produrlo. Questo è un semplice tè al limone. Questo invece è un tè al limone, ma con quel gusto particolare. Secondo me, è giustificata la differenza di prezzo? Allora, se voi siete amanti dell'estatè, proprio non potete farne a meno, prendete l'estatè. Ma se il vostro intento è quello di prendere una bevanda per dissetarvi durante le giornate estive, risparmiando quasi un euro al litro, io vi consiglio di prendere il tè San Benedetto. Ne prendete di più. Poi ripeto, se siete amanti dell'estatè, prendete l'estatè. Però la differenza di gusto particolare non giustifica, a mio avviso, tutta questa differenza di prezzo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno, a commentare, a condividere e a lasciare un like. Grazie per avermi seguito ancora una volta e ai prossimi video. Grazie per aver guardato il video.